L'attesa degli amministratori uscenti intenzionati a ricandidarsi che aspettano le scelte del sindaco, la cautela di esponenti dell'opposizione che guardano a chi oggi sta dall'altra parte tra i banchi di Palazzo Cimorelli come a possibili alleati domani, consiglieri che non si ricandidano ma con il parente familiare o politicamente affine incombente al suo posto, a complicare il quadro che usando una metafora pittorica è già decisamente astratto o surreale, fate voi, le regionali. L'oggetto, se lo augurano i cittadini del capolavoro, ancora tutto da dipingere, le elezioni comunali a Venafro. A riprova di quanto detto il non detto dei protagonisti, ieri a margine dei lavori del Consiglio Comunale. Abbiamo provato a strappare qualche dichiarazione su quello che in città impazza come il toto sindaco. E da chi altri iniziare, se non dall'attuale primo cittadino? Da Alfredo Ricci l'unica notizia che poi non lo è, la riproposizione dell'amministrazione uscente. Sulla sua ricandidatura la risposta è criptica. È ovvio che c'è, è inutile nascondersi sicuramente il tema delle elezioni, delle prossime scadenze elettorali. Questa amministrazione in qualche modo ci sarà, io ho già detto che sono ovviamente a disposizione del territorio, se potrò dare un contributo al nostro territorio. Stesso discorso, medesima risposta sul fronte della candidatura a Palazzo Daimmo. Ai programmi bisogna dare un nome e cognome, però cerchiamo di unirci sulle cose da fare, non dividerci sulle sorti dei singoli. Da un palazzo all'altro, ad attendere più di tutti a Palazzo Cimorelli le decisioni di Ricci, Marco Valvona, l'attuale vice sindaco, a esplicita domanda, si dice lusingato del fatto che il suo nome circoli tra i papabili per la carica di primo cittadino. Il sindaco di Venafro, per il lavoro che ha svolto per la qualità della persona, sia della persona che dell'amministratore, ha ben diritto di dover fare delle scelte e anche noi che l'abbiamo sostenuto e che abbiamo anche beneficiato della sua persona, abbiamo anche il dovere di cercare di aspettare ciò che le sue determinazioni ci diranno. Fatto, salvo questo ragionamento, capisco un po' dilatorio, non ho informazioni da poter dare in merito in questo momento. L'eventuale candidatura, rimarca l'interessato, sarebbe suffragata da una consigliatura, quella che volge al termine, in cui al netto dei rallentamenti amministrativi riconducibili all'emergenza Covid, tanto si è fatto. Il riferimento dell'assessore multidelegato, le più pesanti al bilancio e ai lavori pubblici, al risanamento dei conti dell'ente e all'ottenimento dei finanziamenti del PNRR e del CIS in primis. Il positivo bilancio, contestato aspramente da chi, come Stefano Buono, con la sua ferma e serrata opposizione, è stato una spina nel fianco per l'amministrazione Ricci. A proposito di candidature, Buono del PD correrà per le regionali. Nello schieramento civico Laboratorio 86079, di cui è tra i fondatori, il frontman per Palazzo Cimorelli dovrebbe essere l'architetto Luigi Viscione. Tuttavia, stando alla risposta di Buono, il condizionale d'obbligo. Non c'è ancora l'individuazione di un candidato sindaco, ma troveremo a livello regionale e a livello comunale le donne e gli uomini adatti sulle cui gambe questi programmi cammineranno. Ma non dimentichiamoci che ieri c'è stato il Consiglio Comunale. Con le ingenti risorse ottenute dall'attuale amministrazione, sottolinea Ricci, l'edilizia scolastica cittadina sarà rivoluzionata. In effetti, la scuola di via Colonia Giulia non servirà più. L'idea farla diventare una piazza, con tutta una serie di servizi in una prospettiva di mobilità sostenibile. Dunque, con la variazione di bilancio, approvata nel pomeriggio di ieri, finanziata la progettazione. Le risorse disponibili in tutto 72 mila euro serviranno anche alla progettazione di un'area mercatale, l'obiettivo dare una definitiva sistemazione al mercato cittadino. Ma ora, a tenere banco, neanche a dirlo, sono le comunali.